pensavo che le nomine per il premio nobel fossero segrete credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso in genere è così sì ma queste sono circostanze particolari i premi sono cospicui richiedono dei finanziamenti privati quindi l'immagine del premio nobel è o capisco allora lei è venuto qui per sapere se ero matto per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto ballando sul podio spogliandomi facendo cocco dei cose di questa natura qualcosa del genere sì vi metterei in imbarazzo sì è possibile perché vede io io sono pazzo prendo i farmaci più moderni ma vedo ancora cose che non sono reali scelgo di non prenderla in considerazione come una dieta della mente scelgo di non indulgere in certi appetiti come il mio appetito per gli schemi forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno professor nash grazie